Concupiscenza è un termine molto importante per la teologia cattolica cristiana, ma è anche un termine fondamentale per la storia della nostra tradizione filosofica occidentale, come termine in quanto tale viene dal latino, da concupiscenza o concupiscere, che indica il desiderare. La particella com all'inizio indica intensità, forza, quindi il termine indica il desiderare in modo forte, in modo intenso, è un bramare ardentemente, se vogliamo. Il concetto che il termine racchiude come brama, forte, il bramare della concupiscenza, va indietro fino alla filosofia greca. Vi ricorderete per esempio l'allegoria di Platone dell'Auriga, descritta nel Fedro, in cui Platone dipinge questa immagine, questa figura del condottiero che deve guidare. Ci sono questi due cavalli che non necessariamente portano l'Auriga verso l'alto. In questa allegoria, in questo mito platonico, il condottiero rappresenta la ragione, il logos, mentre i due cavalli rappresentano delle parti dell'anima che non hanno il logos, non che sono irrazionali, perché in natura non c'è niente di irrazionale, quindi è sempre sbagliato in senso proprio, pensare per esempio all'uomo come l'animale razionale e agli altri animali come quelli irrazionali. Non è questo il senso, quando si usa il termine razionale in questo caso si intende avere la ragione come principio intrinseco, possederlo dall'interno, quindi nell'allegoria platonica i due cavalli non hanno il logos come principio interno, devono essere guidati dal logos e invece il condottiero è quella parte dell'anima che lo possiede come principio interno. Ora, questo mito platonico ci dà già una visione etico-antropologica importantissima che fa da fondamento tutta la nostra tradizione etica occidentale, cioè l'idea che il nostro essere umano, un essere in qualche modo composito, che ha al suo interno dei principi che vanno in qualche modo assoggettati al controllo della ragione e che in fondo la moralità e immoralità delle nostre azioni dipende dal fatto che alcuni di questi principi ci guidano a fare qualcosa che non è quel qualcosa che la nostra ragione invece vorrebbe fare. Nella filosofia duelista di Platone è il motivo per cui il corpo è visto come una cosa cattiva, perché la ragione se fosse da sola, separata dal corpo, farebbe semplicemente quello che è secondo verità, perseguirebbe la verità in quanto tale e il corpo invece spinge a fare delle cose che la ragione invece non vuole fare. Per Platone è un'esperienza esistenziale fortissima, immaginate quando volete magari studiare siete troppo stanchi per studiare, per usare un esempio intellettualistico, o quando magari volete andare a lavorare e continuate a stare seduti a mangiare qualcosa o vedere un film, cioè l'idea è che è come se io a volte volessi fare delle cose ma il corpo, questa natura animale, in qualche modo corporea, più materiale, non animale, mi impedisce di fare ciò che la ragione invece farebbe se fosse separata da questo tipo di desideri. Nell'allegoria platonica cosa sono questi due cavalli? Uno è il cavallo che in qualche modo va domato perché incarna quell'aspetto della nostra anima che si innervosisce, diventa e scalpita se c'è qualcosa che impedisce il perseguimento di ciò che vuole o che diventa una paura o una difficoltà è l'irascibilità, quindi l'aspetto irascibile dell'anima, l'anima irascibile diventa appunto la nostra tradizione, quell'aspetto della nostra personalità che va controllato perché ci potrebbe portare a rifuggire alcune azioni per paura o a reagire in modo esagerato per paura o per rabbia, è il tumos in greco, mentre l'altro cavallo appunto è stato definito come il cavallo del concupiscibile appunto, è il cavallo che è quella parte dell'anima che desidera piaceri e questo desidero per i piaceri va controllato perché il semplice desiderare del piacere non necessariamente ci porta a quello che vuole fare la ragione, quindi abbiamo una tripartizione dell'anima in un certo senso che parte da questa allegoria di Platone, l'anima come parte che possiede il logos e quindi propriamente razionale e altre due parti che sono l'irascibile e il concupiscibile che di per sé devono partecipare in qualche modo al logos ma che non ce l'hanno e questa è esattamente l'impostazione anche aristotelica, Aristotele non ha questo dualismo platonico rispetto al corpo cattivo in qualche modo da cui separarsi ma ha esattamente la stessa impostazione, se vogliamo un pochettino più analitico perché lui quando distingue le parti dell'anima appunto in quelle che hanno il logos come principio proprio e sono logo nekon in greco e quelle che non ce l'hanno, halogon appunto alfa privativo logos, cioè che non hanno il logos, ma Aristotele dice c'è una parte che non ha il logos ma non ne può partecipare nemmeno, non ce l'ha completamente, quella parte che noi condividiamo anche con le piante, la parte vegetativa dell'anima, pensate a voi stessi, pensate al processo digestivo, al processo di crescita dal bambino all'adulto, ci sono cose che noi facciamo, perché noi siamo anche il nostro corpo, ma su cui non esercitiamo nessun controllo di ragione, se non in senso molto remoto, decido di non mangiare e muoio, ma comunque il processo, quello che succede al mio corpo quando mangio poi segue la sua strada, non posso farci nulla, ma c'è poi un'altra parte dice Aristotele dell'anima che non ha il logos, halogon, che non ha il logos come principio proprio ma ne partecipa, dice Aristotele come un figlio che obbedisce al padre, cioè deve partecipare, deve essere informata dal logos. Ora la cosa interessante è che questa parte non comprende soltanto quello che potremmo definire desideri animali in qualche modo, ma include qualunque tipo di inclinazione al bene come piacere, come desiderabile e quindi include sia il tumos, sia il cavallo irascibile di Platone, include quello che è il desiderio soltanto per il bene come piacere, che è l'epitumia in Aristotele come inclinazione, ma include anche quella che noi possiamo trovare anche come volontà in Aristotele, che è la bullesis, sono tre tipi di inclinazione che Aristotele mette in questa parte dell'anima che non ha il logos come principio proprio ma che ne deve partecipare, perché la parte appetitiva che per noi è fondamentale, perché pensateci in questi termini, noi abbiamo una parte intellettuale che riceve dati, è come quando immettete dati in un computer, riceviamo dati dalle sensi, dall'intelletto, il processo di conoscenza è ricettivo, ma non ci muove a fare nulla e quando ci muoviamo, quando agiamo, abbiamo un principio che invece è un'energia che ci porta verso qualcosa, questa energia in termini proprio generali filosofici viene chiamato appetito, inclinazione, è un potere che chiaramente non è lo stesso conoscitivo, il logos in quanto tale non muove, per Aristotele questo è chiarissimo quel principio, ciò che muove è l'inclinazione, se noi non desiderassimo niente non agiremmo, quindi non è che quella parte dell'anima in qualche modo è una parte che è peccato che c'è, no, perché saremmo totalmente inerti come esseri se non ci fosse quella parte, quindi è una parte che però non ha il logos come principio proprio, deve essere informata dal logos, altrimenti potrebbe andare in una direzione che non è quella che noi potenzialmente vogliamo, quindi tutta l'esperienza morale, in questo senso Aristotele nella parte con logos mette sia le virtù intellettuali ma anche la prudenza come intelletto calcolativo che calcola l'azione da fare, è un ragionamento quello della prudenza e questa capacità intellettuale poi deve informare l'azione e tutta l'esperienza morale in fondo che la grecità consegna alla filosofia morale occidentale e alla cristianità è l'idea che l'esperienza morale è proprio l'informare con la ragione questi due cavalli dell'irascibile e del concupiscibile che altrimenti ci portano fuori strada. Questo significato che è molto generale, positivo in un certo senso, viene trasfuso nella teologia cristiana con una connotazione negativa che è consapevole del significato positivo ma che lo interpreta rispetto alla teologia soltanto nella parte negativa del peccato originale, cioè la concupiscenza nella teologia cristiana diventa non semplicemente l'anima concupiscibile che è rivolta ai piaceri, che desidera in qualche modo, ma sia i piaceri più animali dell'epitumia aristotelica, sia quelli più razionali dell'abulesis, della volontà, ossia quelli in negativo del tumos che poi in realtà sono quelli che controlla la virtù cardinale della fortezza o del coraggio. Nella teologia cristiana si mette a fuoco su un aspetto che è il disordine generato dal peccato originale, cioè sul fatto che nella condizione di vita nostra di adesso, dopo il peccato, questi due cavalli conservano un principio di disordine, cioè tendono ad agire secondo l'ordine della ragione, quindi la concupiscenza pur essendo un significato di per sé generale in filosofia, in teologia viene ristretto questo aspetto specifico, cioè al fatto che c'è un principio di disordine in questi due cavalli che la ragione deve controllare, ma quando non lo controlla è la concupiscenza in negativo. Dice per esempio il punto 2515 del Catechismo, la concupiscenza in senso etimologico può designare ogni forma vehemente di desiderio umano. La teologia cristiana ha dato questa parola il significato specifico di moto dell'appetito sensibile che si oppone ai dettami della ragione umana. L'apostolo San Paolo la identifica con l'opposizione della carne allo spirito, è conseguenza della disobbedienza del primo peccato, in generale disordine delle facoltà morale dell'uomo e senza essere in sé stessa un peccato, inclina l'uomo a commettere il peccato. In un punto più specifico legato al peccato originale, punto 405, per esempio il Catechismo ribadisce il concetto in questi termini. Il peccato originale, sebbene proprio ciascuno, in nessun discendente di ramo ha un carattere di colpa personale, consiste nella privazione della santità e della giustizia originali, ma la natura umana non è interamente corrotta, è ferita nelle sue proprie forze naturali, sottoposta all'ignoranza, alla sofferenza e al potere della morte, è inclinata al peccato. Questa inclinazione al male è chiamata concupiscenza. Ora, quindi, la concupiscenza, ripeto, ha un significato generale positivo, filosofico, che esprime una parte dell'anima umana, in qualche modo, usando la terminologia aristotelica e la metafora platonica, ma nella trilogia cristiana vede quell'aspetto di disordine che è provocato il peccato originale come inclinazione al male del desiderio, che è un qualcosa, però, attenzione, che è presente anche in filosofia. Voi sapete che il peccato originale è una verità di fede, non c'è un modo con cui la filosofia può dedurre in qualche modo l'esistenza del peccato originale. Non c'è nessuna deduzione di questo tipo. Se non fosse stato rivelato, non sapremmo il peccato originale. Però questo non è del tutto vero, in un certo senso, perché tracce del peccato originale non solo sono accessibili alla filosofia, ma la filosofia le ha scoperti, indipendentemente dalla rivelazione. Perché? Perché la filosofia si accorge che c'è qualcosa che non funziona in noi. È un'esperienza di tutti. Cioè, perché appunto ogni tanto io vorrei fare una cosa, ma il mio corpo, la mia pigrizia o quello che sia, mi porta a farne un'altra. Per Platone l'esperienza del peccato originale è evidente. Cioè, nella sua filosofia c'è qualcosa di male, che per lui identifica col corpo in quanto tale, con la realtà materiale in quanto tale, ma lo identifica proprio così, perché dice, ma io a volte vorrei concentrarmi sulla verità e sono stanco e non lo posso fare. Cioè, c'è qualcosa nel corpo che mi impedisce di essere chi dovrei essere sul serio. E questa frattura è un'esperienza che noi viviamo, l'esperienza che la coscienza a volte ci manifesta quando ci attacca fortemente, ci fa stare male, perché abbiamo i rimorsi, abbiamo tutte quelle sensazioni che avremmo dovuto fare qualcosa o non avremmo dovuto farla. E questa cosa ci rimane dentro, perché in qualche modo questa frattura la sperimentiamo. Quindi è vero che il peccato originale come evento è teologico, ma come esperienza della natura decaduta è anche filosofico ed è presente in filosofia, nell'esperienza del male, della coscienza morale e della frattura tra virgolette. La nostra parte puramente razionale è quella parte che invece la ragione la può anche trascurare, può andare per la sua strada a volte senza che la ragione possa fare qualche cosa. Ora, però, è importante capire che nella visione positiva, anche appunto cattolica, anche filosofica, se non ci fosse questa inclinazione al male del peccato originale, il desiderio, la concupiscenza sarebbe una cosa fondamentale e positiva, perché non solo è la radice della nostra azione, ma ci aiuta, cioè quando la natura, tra virgolette, della concupiscenza, del nostro concupiscibile funziona correttamente, ci indirizza direttamente a fare la cosa che anche la ragione vorrebbe fare. Alla fine il compito della virtù morale, appunto fin dalla filosofia greca, non è altro che quello di addestrare questi cavalli in modo tale che addirittura tirino direttamente verso dove il condottiero li vuole portare, ma una volta che il cavallo è ben addestrato, lui ci va spontaneamente, desidera direttamente il bene. La persona virtuosa è quella che in automatico, prima ancora della razionalizzazione, tende a desiderare, gli piace proprio come bellezza morale, quella cosa che anche conforme alla ragione, una persona veramente morale non disprezza qualche cosa che è puramente turpe, non lo attrae nemmeno, risulta repellente una cosa veramente turpe, quella cosa che invece alla persona turpe diventa una bramosia, invece la persona virtuosa che ha addestrato il cavallo, quella cosa non diventa neanche piacevole, non è più neanche piacevole, non diventa neanche una tentazione. Per una persona che ama veramente sua moglie, la ragazzetta di turno non è neanche una tentazione in qualche modo, può essere una tentazione, in quel caso la ragione deve domare il cavallo, quindi possiamo avvertire la tensione, ma quando veramente il cavallo è ben addestrato non c'è neanche la tentazione, cioè questa è la persona virtuosa agisce bene in modo spontaneo, ma perché spontaneamente fa automaticamente quello che la ragione propone. Tommaso d'Aquino addirittura in questa tradizione teologica definisce il peccato originale come concupiscenza, in senso materiale, proprio perché questo aspetto del disordine in noi è il peccato originale in qualche modo. C'è un punto della summa teologica, nella prima seconda, questione 82, articolo 3, in cui si chiede proprio se il peccato originale non sia proprio la concupiscenza e risponde così, lo leggo velocemente, no non lo leggo tutto perché sarebbe lungo, dice a un certo punto tutto l'ordine della giustizia originale si era il fatto che la volontà umana era sottomessa a Dio, sottomissione che consisteva principalmente nella volontà che ha il compito di muovere tutte le altre facoltà verso il fine, come si è detto prima. Perciò la volontà con la sua aversione da Dio ha portato il disordine in tutte le altre facoltà dell'anima, questo si è perso quello che era chiamato l'ordine giustizia originale. E continua, ecco quindi che la privazione della giustizia originale che assicurava la sottomissione della volontà a Dio è la parte formale del peccato d'origine, mentre tutto il disordine delle altre facoltà ne è come l'elemento materiale. Quest'ultimo disordine consiste soprattutto nel fatto che queste facoltà si volgono disordinatamente bene i transitori e tale disordine con nome generico si può chiamare concupiscenza. Perciò il peccato originale materialmente è la concupiscenza, formalmente è la mancanza della giustizia originale. Questo per ribadire il concetto di concupiscenza in teologia che ha questa accezione negativa legata al peccato originale, ma che in realtà si nutre di un'accezione positiva che è quella dell'anima che desidera, che è parte della struttura antropologico-etica dell'essere umano evidenziata fin dalla filosofia pagana che poi viene assunta dai padri della Chiesa e diventa parte della tradizione cristiana. Questo aspetto della concupiscenza come principio di disordine nella nostra struttura, come funziona adesso, umana, fa capire perché nella teologia cristiana e nella scetica cristiana è così importante il concetto di mortificazione. La mortificazione in un certo senso è una cosa cattiva, significa farsi del male, io digiuno significa che il mio fisico ha bisogno di mangiare e io non gli do da mangiare, in qualche modo io lo danneggio. Tecnicamente la mortificazione è un male, è infliggere un male, qualunque sia la mortificazione il concetto è infliggere un male, di per sé sarebbe negativo, ma siccome noi siamo un essere composito, abbiamo una gerarchia di beni in cui il bene inferiore è sottoposto al bene superiore, è un bene nella misura in cui causa il bene superiore, il motivo per cui per esempio in etica medica, se una gamba rischia di andare in cancrena e di uccidere tutto la persona, la gamba io la posso tagliare. Tagliare le gambe è di per sé un male, ma io lo faccio per salvare il tutto, perché la gamba è bene per l'uomo nella misura in cui serve al tutto, se invece addirittura lo uccide il tutto la gamba è cattiva. In una gerarchia di beni ovviamente il più basso deve essere funzionale al bene del tutto di cui è parte. Ora, se è vero che una parte della mia natura, questi due cavalli, tendono di per sé, dopo il peccato originale, a fare qualcosa di sbagliato, nella mia ascetica abituale io li devo addestrare come uno sportivo in palestra si addestra andando oltre i suoi limiti, cioè l'allenamento serio di uno sportivo fa del male, anche l'allenamento serio fa del male, lo sportivo si assoggetta a diete, si assoggetta ad allenamenti che a volte fanno veramente male, perché deve andare oltre il limite al punto che il suo corpo poi farà esattamente quello che lui vuole che faccia in competizione. Ma è la stessa cosa con la mortificazione. La mortificazione significa, è come togliere al cavallo qualcosa e tirargli un po' la briglia perché si abitui a seguire l'ordine e la ragione. Senza questa mortificazione come abitudine ascetica, in presenza di un principio di disordine, se il cavallo viene lasciato a se stesso noi tenderemmo a peccare. Allora la mortificazione non è soltanto un'eccezione della ascetica cristiana, ma è un elemento essenziale perché in funzione del disordine ha portato la natura al peccato originale, se noi non teniamo a bada i cavalli del concupiscibile del dirascibile, effettivamente ne perdiamo il controllo. La teologia cristiana ha, seguendo un insegnamento di San Giovanni nella sua prima lettera, ha riassunto la concupiscenza come principio di disordine in tre tipi di concupiscenza, in tre, tra virgolette, inclinazioni fondamentali al male, che sono la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Questo in San Giovanni è la prima lettera 2,16 come riferimento. Questa tripartizione è diventata molto importante anche perché è stata usata per leggere sia il peccato di Adamo, sia le tentazioni di Cristo come nuovo Adamo. Gesù Cristo è il nuovo Adamo perché? Perché dove Adamo ha disobbedito e quindi ha peccato a Dio, Gesù invece ha obbedito fino all'ultimo sorso di aceto sulla croce e il tutto è compiuto di Gesù significa che ha obbedito fino a ogni dettaglio. Dove Adamo aveva disobbedito per giunta in una cosa abbastanza stupida, se vogliamo, nel giardino dell'Etene, non mangiare giusto del frutto di quell'albero, era una cosa, se vogliamo, abbastanza piccola. Adamo aveva disobbedito, Gesù obbedisce. Nella tentazione di Adamo, nel peccato di Adamo, sono state viste in scala queste tre concupiscenze all'opera, così come nelle tentazioni a cui il diavolo sottopone Gesù Cristo, sono viste quelle stesse tre tentazioni però superate positivamente da Gesù Cristo, in un parallelismo che è diventato, diciamo, di base nella teologia cristiana per interpretare Gesù come nuovo Adamo. Vediamo un pochettino come funziona. Vi ricorderete il passo di Luca, delle tentazioni di Cristo? Gesù, pieno di Spirito Santo, si è allontanato dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse, se tu sei il figlio di Dio, dia a queste pietre che diventi pane. Gesù rispose, sta scritto, non di solo pane, viverà l'uomo. Questo passo fa da parallelo al modo in cui comincia la tentazione di Adamo, che è il fatto di vedere quel frutto come desiderabile. Nella tripartizione di Giovanni sarebbe la concupiscenza della carne, proprio il desiderio più materiale dei nostri sensi. Quindi quel frutto è desiderabile e Gesù è tentato sul trasformare qualcosa in pane, perché ha fame. Gli disse poi il diavolo, lo condusse in alto e mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse, ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prosti dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose, sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerai. Questa tentazione superata da Gesù Cristo viene vista come, cioè rispetto ad Adamo, è il momento in cui lui in qualche modo, dopo aver visto il frutto come desiderabile, vuole possederlo e quindi si muove verso il peccato finale, proprio col desiderio di possedere questa cosa che era desiderabile alla vista. Lo condusse a Gerusalemme, se lo pose sul pinacolo del Tempio e gli disse, se tu sei il figlio di Dio, buttati giù, sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano e anche essi ti sosterranno con le mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose, è stato detto, non tenterai il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontano da lui per ritornare al tempo fissato. Vedete, qui l'Evangelo dice, dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, questo è il motivo per cui questo passo del Vangelo, le tentazioni di Cristo, sono state viste come di per sé virtualmente inclusive di ogni possibile tentazione e quindi vengono viste esattamente con la triplice distinzione di Giovanni, nella lettera di Giovanni, sulla triplice tentazione, di cui l'ultima è proprio quella della superbia della vita. E in Adamo è il momento in cui lui vuole essere come Dio, cioè è desiderabile per Adamo diventare come Dio. C'è un passo in cui Tommaso Alpino riprende esattamente questo parallelismo in questi quasi identici termini, nella terza parte della somma teologica, che è quella più teologica, legata agli argomenti più teologici, nella questione 41, articolo 4, dove dice appunto sembra che le tentazioni non si sia rivolte nel modo o nell'ordine convenienti. E a un certo punto dell'articolo riprende quello che il diavolo ha fatto con Adamo e quello che ha fatto Gesù Cristo, vediamolo. Prima infatti ne richiamò la mente, il diavolo ad Adamo, sull'obbligo di non mangiare il frutto proibito, perché Dio vi ha proibito di mangiare di tutti i frutti del paradiso. Perché Dio vi ha proibito di mangiare di tutti i frutti del paradiso? Poi lo tentò di vana gloria, i vostri occhi si apriranno, infine portò la tentazione all'estremo limite della superbia, diventerete come Dio, conoscendo il bene e il male. Lo stesso ordine seguì nel tentare Cristo. Prima infatti lo tentò su quelle cose che gli stessi uomini più spirituali sono costretti a desiderare, cioè sul sostentamento del corpo mediante il cibo. In secondo luogo passò a suggerire cose in cui talvolta anche gli spirituali mancano, cioè a fare qualcosa per ostentazione, cioè lo tentò di vana gloria. Terzo lo tentò su cose che appartengono non agli uomini spirituali, bensì a quelli carnali. Suggerì cioè la brama delle ricchezze e della gloria mondana, fino al disprezzo di Dio. Ecco perché nelle prime due tentazioni disse se sei il figlio di Dio, ma non lo disse nella terza, perché questa differenza delle prime due non si addice ai uomini spirituali, che sono figli di Dio per adozione. Ora, a parte questa specifica sulla differenza tra le prime due e la terza tentazione, sui uomini spirituali e carnali, mi interessava più altro, un altro aspetto, Tommaso nello stesso articolo risponde a un'altra obiezione molto interessante in cui si dice, ma in fondo Gesù Cristo perché c'era una concupiscenza nella prima tentazione? In fondo lui se aveva fame poteva mangiare, i miracoli li ha fatti anche con la moltiplicazione dei pani e dei pesci, perché non mangiare? Cosa c'è di male nel sentire il desiderio di mangiare e quindi eventualmente nel procurarsi cibo? Cioè non è che di per sé sarebbe stato un male anche fare un miracolo per avere il pane? Non è questo, dice Tommaso, è il motivo di fare una cosa eccezionale per soddisfare il desiderio del cibo, cioè perché in quel caso bisognava risolversi a un qualcosa di eccezionale se non in funzione della tentazione diabolica? Pensate ad Adamo, non è che il desiderare, il vedere il frutto come desiderabile di per sé sia cattivo, ma qui è un problema di accento. Se io ho fame è chiaro che il cibo mi è desiderabile, quindi da questo puntista la concupiscenza ha quel significato positivo che di per sé non è peccaminoso, ma quando il desiderabile è desiderabile in funzione di rompere un precetto, allora sì, lì diventa già peccaminoso perché è in funzione di qualcosa che io non dovrei desiderare, c'è un motivo per non desiderarlo, ma in me diventa desiderabile. In quella frase desiderabile c'è qualcosa di più del semplice avere fame. In effetti per Adamo era così, Adamo quel frutto non doveva neanche desiderarlo perché poteva mangiare qualunque cosa volevano giardino all'Eden, è come essere in una tavola perfettamente imbandita in cui di un solo cibo ti è stato detto però quello lascialo stare, è il giusto quello tu lo cominci a guardare, non so se è chiaro, è il cominciare a guardarlo che è il desiderio cattivo. Nella tentazione di Gesù se Gesù avesse trasformato il pane in fondo sarebbe stato in funzione di una concupiscenza generata dal diavolo rispetto a mille altre cose che Gesù avrebbe potuto fare per andarsi a prendere da mangiare. Quindi la concupiscenza cattiva è quella che in qualche modo già è in funzione di qualcosa che non dovremmo fare, il desiderare qualcosa che non dovremmo desiderare, che è esattamente ciò che il cavallo imbizzarrito mi porta a fare, perché la virtù invece mi porta a non desiderarlo nemmeno quel qualcosa che io non devo desiderare, ho tutte le altre cose del mondo da desiderare, perché è giusto quella cosa, perché è giusto quella donna, che non è mia moglie, quello è proprio il desiderio che rompe l'ordine di ragione e che diventa concupiscenza in senso negativo. Ho fatto questo riferimento al desiderare ad un altro per un motivo molto preciso, questo significato della triplice concupiscenza e del senso della concupiscenza in generale nella teologia cattolica è racchiuso negli ultimi due comandamenti, il nono e il decimo, vi ricorderete il nono comandamento che riguarda il desiderare la donna ad altri, come l'espressione biblica più sull'adulterio, il catechismo richiama anche il passo più generale, sia per il nono che per il decimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo, chiunque guarda la donna per desiderarla ha già commesso l'ulterio con lei nel suo cuore. Il nono comandamento, dice il catechismo, mette in guardia dal desiderio smudato o concupiscenza carnale, che in qualche modo è la prima delle tre concupiscenze di Giovanni e ci ricorda subito, e lo fa anche il decimo, che noi come esseri razionali possiamo peccare anche senza azioni esterne, già il peccato di desiderio è un peccato perché noi dobbiamo vivere la nostra razionalità in un certo modo già da dentro, se noi non facciamo qualcosa soltanto per qualche impedimento esterno, in fondo però nel nostro cuore siamo già cattivi. Il nono e il decimo canamento ci dicono che esistono peccati che prescindono dall'azione esterna, ma mettendo a fuoco sulle nostre intenzioni interiori, sulla concupiscenza sbagliata, in qualche modo ci mettono in guardia da qualunque altro peccato, quindi è come se il nono e il decimo dal punto di vista del desiderio e della concupiscenza proteggono e fanno la guardia tutti gli altri comandamenti, ed è quello che dice in particolare il fatechismo anche sul decimo, a parte che cita lo stesso inizio del nono, non desiderare alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, nel suo campo, nel suo schiavo, nella sua schiava, nel suo bue, nel suo asino, nel alcune delle cose che sono del tuo prossimo. Quindi evidenzia una struttura unitaria, tra virgolette, dei comandamenti che vietano di desiderare ciò che non va desiderato, però poi per esempio dice al punto 2534 che il decimo comandamento riguarda l'intenzione del cuore, insieme con il nono, riassume tutti i precetti della legge. Sotto il prefiro dell'intenzione e della concupiscenza, il nono e il decimo riassumono tutto. Leggo velocemente questo stesso punto che si chiude con questa frase che ho appena letto. Il decimo comandamento sdoppia e completa il nono, che verte sulla concupiscenza della carne. Il decimo proibisce la cupidigia di beni altrui, che la radice del furto e la rapina della frode, vietati dal settimo comandamento, la concupiscenza degli occhi, la seconda e le concupiscenze di Giovanni, porta alla violenza e all'ingiustizia proibite dal quinto comandamento, la bromosia come la fornicazione trova origine nell'idolatria, avvitata nelle prime tre prescrizioni della legge, e chiude, come abbiamo già visto, il decimo comandamento riguarda l'intenzione del cuore, insieme con il nono riassume tutti i precetti della legge. I comandamenti appunto del desidero, della concupiscenza in qualche modo, contro la concupiscenza, e che ovviamente danno anche l'idea di una perfezione più alta nel senso delle beatitudini. Il nono comandamento, vissuto in pienezza, non è altro che la beatitudine del puro di cuore, dei puri di cuore che vedranno Dio, ma vedranno Dio già su questa terra, tra virgolette, cioè il vede, la concupiscenza, nel senso peccaminoso, rende ciechi alla verità del bene. E quindi Dio è verità, Dio è bene, e quindi non lo si può vedere. Cioè questo è il senso del beati puri di cuore perché vedranno Dio. Certamente nella vita futura, la visione diretta della beatitudine, ma a livello etico il non vedere fa parte della bramosia cattiva del peccato, perché invece di osservare ciò che è bello e che va desiderato, io in realtà sto guardando qualche altra cosa e quindi non la vedo la verità. La persona egoista non lo vede il bene della persona generosa, in qualche modo si perde questa cosa bellissima che è il bene sperimentato. Torniamo al significato generale, quindi concupiscenza è un termine che indica nella tradizione filosofica occidentale il fondamento stesso dell'antropologia e dell'etica che la grecità ci ha consegnato, ci ha consegnato tutta la tradizione occidentale e il cristianesimo, cioè l'idea che in qualche modo c'è una parte della nostra anima, della nostra struttura etico-antropologica che desidera, desidera le cose che poi in realtà ci portano ad agire, che sono quel motore interno che ci porta ad agire, ma che c'è in noi una molteplicità di aspetti che vanno controllati dalla ragione e quindi quei due cavalli di Platone esistono in noi, ma la ragione deve informarli e deve controllarli. La teologia cristiana mette a fuoco sull'aspetto, sulla frattura creata dal peccato, tale per cui questi cavalli tendono di per sé a fare qualcosa che l'auriga non vorrebbe e quindi invita tramite poi anche l'aiuto sopranaturale e la grazia dei sacramenti e della preghiera a ritrovare questa armonia e a non peccare, in particolare a concentrarsi sull'interiorità tramite il nono e il decimo comandamento.